ciao amici ben trovati facciamo un po il punto sull'energia di questo momento soprattutto dato che domani mattina alle 4 e 36 circa ci sarà la prima luna piena nel seno dell'acquario mese di luglio si è annunciato subito molto intenso con tante energie contrastanti che si sono manifestate si continuano a manifestare sul piano materiale con caos e giochi di potere molto forti e nelle prossime settimane assisteremo ancora a questo controllo delle istituzioni che aumenta sempre più però è anche vero che la popolazione allo stesso tempo reagirà sempre più e quindi sempre più persone alzeranno la testa si ribelleranno alle restrizioni perciò il tema dominante è proprio la rivoluzione contro la repressione e questo è un tema ben rappresentato dalla quadratura tra plutone ed eris ricordo che eris è la dea della discordia con lei che lanciò il pomo della discordia sul banchetto nuziale durante appunto le nozze di peleo e di teti questo pomo era rivolto alle idee c'era scritto alla più bella quindi zeus avrebbe dovuto scegliere tra giunone atena minerva e venere afrodite naturalmente lui non se la sentì di fare questa scelta delegò a paride e paride scelse afrodite venere per cui vinse l'amore della più bella e da lì la guerra di troia quindi eris rappresenta ne ho già parlato ma lo ripeto volentieri perché è un archetipo molto importante rappresenta il coraggio di scegliere autenticamente anche a costo di far scatenare una guerra anche a costo di entrare in conflitto ecco quadratura plutone eris l'altra quadratura lo sappiamo molto bene ne abbiamo parlato tante tante volte ancora ne parleremo è quella tra saturno e urano e questa questa quadratura caratterizza tutto il 2021 ma anche il 2022 urano archetipo del cambiamento rivoluzionario Saturno che vuole invece conservare lo stato delle cose urano in toro saturno in acquario quindi in gennaio questa quadratura è stata attivata da Marte quando Marte è entrato nel segno del toro adesso in luglio abbiamo Marte in leone quindi di nuovo si è attivata questa quadratura con la cosiddetta croce a t si attiverà ancora a novembre quando Marte entrerà in scorpione non dimentichiamo che Marte rappresenta anche il coraggio no la combattività l'azione che però è motivata dalla volontà di difendere qualcosa in questo caso i diritti la libertà quindi è un archetipo affine a urano e a eris prepariamoci perciò un autunno di grandi tensioni non dimentichiamoci che la lotta tra il controllo e la libertà quindi tra il vecchio mondo e il nuovo va al di là di quello che si muove sul piano della materia della realtà tridimensionale da un punto di vista evolutivo e qui stiamo facendo astrologia evolutiva quindi per me è fondamentale parlare sempre di questo aspetto il caos è l'effetto del collasso del vecchio mondo il 2021 ha proprio questo compito di portare alla luce le verità scomode anche con la complicità di Lilith in gemelli trovate qui sul mio canale il video dedicato a Lilith in gemelli e quindi ci saranno queste verità che continueranno a svelarsi anche negli anni a venire poi perché negli anni a venire tutto il sistema cambierà la politica la medicina la scuola la giurisprudenza l'economia fino all'agricoltura saranno rivoluzionate e quindi è inevitabile che questo passaggio epocale sia caratterizzato da una grande confusione e allora in tutto questo noi dobbiamo essere forti e sentirci interiormente al sicuro essere fiduciosi che quando alla fine di tutto questo ci toglieremo di dosso le macerie la polvere troveremo un mondo molto molto migliore di quello in cui siamo ora ora la luna piena di domattina avviene in questo contesto abbiamo appena avuto ieri 22 luglio un coinconce tra Marte e Plutone che si è espresso eris invece appena iniziato il moto retrogrado tra l'altro si trova in trigono con Marte quindi insomma in questi giorni le energie sono forti e ce ne stiamo accorgendo la luna piena di domattina quindi 24 luglio ora è 4 e 37 con la luna a un grado 26 primi dell'acquario quindi il sole un grado 26 primi del leone ecco guardate sempre dove cade nel vostro tema natale aiutatevi col tutorial che trovate sul mio canale youtube c'è anche una parte in cui ci sono le parole chiave per ciascun settore della carta per le case astrologiche cercate di vedere dove si trovano questi gradi dell'acquario nella vostra carta natale in quale casa cadono e cosa significa quindi l'ambito della vita che corrisponde a quella casa indica dove ci può essere qualcosa che va a compimento qualcosa che arriva a un culmine qualcosa che si chiarisce che viene alla luce questa lunazione così come il 9 luglio in cancro che abbiamo avuto un paio di settimane fa è fortemente plutoniana perché la luna è congiunta a plutone anche se fuori segno ma è anche congiunta a saturno quindi in realtà si trova nel midpoint a metà strada tra saturno e plutone plutone in capricorno capricorno rappresenta il passato saturno in acquario che rappresenta il futuro diciamo che è un po come se fosse un ponte un passaggio però attenzione plutone rappresenta il potere allora ecco qua tutto è polarizzato in questo universo lo diciamo sempre no quindi quando parliamo di potere possiamo parlare o del potere come inteso nel vecchio paradigma quindi qualcosa che è fuori di noi che possiamo solo subire e quindi ci mette nella posizione della vittima nel nuovo paradigma invece il potere è dentro di noi è la nostra autorità interiore è la voce dell'anima plutone è in astrologia evolutiva proprio l'intento evolutivo dell'anima è l'anima quindi abbiamo sempre una scelta con questa luna noi possiamo scegliere se continuare a subire un potere che arriva da fuori oppure se scoprire che abbiamo un potere personale abbiamo un'autorità interiore e questa autorità interiore è dentro di noi è la nostra anima certo come dicevo anche nei video passati la grande differenza è tra chi si è accorto di essere un'anima e chi non si è accorto un'altra cosa interessantissima di questa luna è che è congiunta con Ciariclo che ha tre gradi dell'acquario vi ricordo che Ciariclo la moglie di Chirone nel mito un archetipo che io amo moltissimo di cui ho parlato ampiamente diffusamente nella conferenza che ho tenuto per il Cida trovate il video nuovi archetipi per l'astrologia della nuova era Ciariclo era coinvolta sia nella grande congiunzione tra Saturno e Plutone del gennaio del 2020 sia nella congiunzione tra Giove e Saturno del dicembre 2020 è un centauro, è l'allevatrice dell'anima i centauri vi ricordo sono il ponte tra il personale e il transpersonale in particolare Ciariclo invita il nuovo nel rispetto del vecchio il nuovo Urano, il vecchio Saturno è un femminile che si prende cura, che sostiene è una testimone silenziosa, non giudicante crea uno spazio sacro, aiuta a sostenere i processi inevitabili, potenti, dolorosi di passaggio, di trasformazione, è proprio l'alambicco che custodisce la trasformazione ridefinisce i confini, plache e conflitti quindi è un archetipo femminile, un femminile indipendente, autonomo, ma dolce, accogliente che ha questa capacità di accompagnare dall'altra parte che vale la pena evocare è veramente un archetipo con il quale è fondamentale sincronizzarsi per uscire dalla mera percezione della 3D che ci risucchia nel dramma, nel ruolo della vittima torno sempre a quel discorso lì, o mi accorgo che sono un'anima altrimenti sarò sempre vittima di quello che accade fuori quindi la luna si trova proprio a un grado dell'acquario dove è avvenuta la congiunzione Giove-Saturno cioè dove è iniziato il nuovo ciclo Giove-Saturno che durerà 200 anni e che ha a che fare con la verità con la libertà, con le nuove tecnologie ecco, è una luna, come dicevo, che può gettare luce su qualcosa che finora è rimasto nascosto qualcosa che può portare a dei cambiamenti improvvisi in questo scenario e ciascuno di noi, su questo palcoscenico, ha il suo ruolo allora, c'è chi ha il ruolo di essere inconsapevole chi deve recitare questa parte, deve interpretare questa parte pensa di non avere alcun potere sulla realtà pensa che la realtà sia qualcosa di oggettivo che non può essere cambiato, che può solo essere subito e quindi non può fare nulla, non riesce a fare nulla poi c'è invece chi si è accorto di avere questo potere e allora può scegliere quale archetipo attivare e non abbiamo lo stesso compito c'è chi può attivare Eris e quindi scendere in piazza a protestare, a manifestare c'è chi invece può attivare Mercurio, per esempio ed essere messaggero, comunicare tra l'altro Mercurio adesso si trova in cancro poi ci torno su questo aspetto e quindi è un Mercurio anche molto dolce molto introspettivo, molto emozionale, molto emotivo oppure si può attivare Chirone oppure Ciariclu, oppure Plutone Plutone quindi trasformazione accompagnare le persone in questo passaggio prendersi cura, Chirone ecco dicevo Mercurio è importante perché Venere è appena entrata nel segno della Vergine che è governata da Mercurio e Lilith si trova nei Gemelli che è governata da Mercurio tra l'altro nel momento in cui Venere è entrata in Vergine la Luna era in Capricorno quindi anche lei in segno di Terra per cui diciamo che c'è molta concretezza che ci porta questa Venere in Vergine però adesso volevo proprio portare l'attenzione sul ruolo di Mercurio che è chiamato in causa sia da Venere in Vergine sia da Lilith in Gemelli che sono in quadratura come dicevo anche nel video relativo a Lilith in Gemelli quindi questo Mercurio parla di una comunicazione fatta di comprensione, di ascolto, di emozioni ecco perché è importante è importante attivare l'archetipo Ciariclo perché Ciariclo come dicevo prima crea spazi sacri sta in disparte osserva amorevolmente non giudica tutti noi dovremmo sincronizzarci con Ciariclo perché dobbiamo cercare di non dare energia al mondo che sta collassando dobbiamo stare lontani dalle emozioni negative che abbassano la nostra frequenza io vedo continuamente sui social persone che non so pubblicano la foto di personaggi che detestano per insultarli o per deriderli oppure cercano di convincere gli altri che si sbagliano e continuano a dare energia a quella realtà che non amano che non condividono interiormente e quindi di fatto quello che viene condiviso alimenta la rabbia alimenta la paura purtroppo in questo momento i giochi sono già stati fatti coloro che potevano capire hanno capito coloro che non potevano capire non hanno capito e va bene così come dicevo anche nell'altro video andate a ascoltarvelo il video su Lilith in Gemelli se non l'avete già fatto non c'è il giusto e lo sbagliato a me tutto questo ricorda una partita a scacchi ognuno ha diciamo la la sua parte da fare nel gioco ma in realtà non è che si gioca a scacchi perché i bianchi devono dimostrare di aver ragione o i neri devono dimostrare di aver ragione si gioca più perché si mette a punto una strategia la partita può anche finire patta come si dice non è che per forza ci deve essere giusto lo sbagliato però c'è la possibilità di vedere di trovare strategie nuove mentre gioco io devo essere ingegnoso e devo sapere bene che ruolo sto interpretando devo sapere bene chi sono qual è la mia parte in questo gioco ecco sembra un po' un po' così quello che sta accadendo allora io credo che in questo momento so benissimo che è difficile so molto bene che è difficile infatti non lo dico mettendo me su un pulpito assolutamente anzi lo dico perché lo vivo in prima persona è molto difficile viene voglia a volte veramente di scuotere le persone e dire ma come fai a non accorgerti poi ripeto ognuno di noi ha il proprio ruolo ci sono probabilmente delle anime che sono scese col compito di restare inconsapevoli ovviamente non come anima ma come personalità ci sono probabilmente anime che sono scese con l'intento invece di comprendere e non ci sono riuscite ora non spetta a noi giudicare non spetta a noi perdonare ecco io credo che semplicemente ci sono persone che magari sono state bloccate dalla paura dalla paura del cambiamento quindi sono la classica persone per cui la vita è io ho una bella casa ho il mio lavoro aspetto la pensione faccio le vacanze esco fuori a cena ostento la mia bella casa ostento la mia bella macchina e per loro veramente la vita finisce lì quindi ci sono persone che non si fanno domande sul senso della vita e quindi non possono ascoltarti quando tu parli loro di energia e di anima io ammetto non so voi ma io ammetto che ogni tanto mi arrabbio perché in fondo in fondo in fondo li invidio perché è molto più facile stare al mondo pensando di non avere responsabilità per quello che accade di non poter fare altro che accettare quello che quello che sta accadendo e adeguarsi è molto più facile no? ammettiamolo è molto più semplice fare le vittime ma se una persona ha compreso che invece la materia non è altro che la proiezione dell'energia e che quindi ciò che accade dipende fortemente dalla frequenza a cui vibriamo la frequenza a cui vibra ciascuno di noi e quindi la collettività lì allora poi ti accorgi che hai una grande responsabilità purtroppo però come nella caverna di Platone quando ti sei accorto che quello che vedi sulla parete della caverna è la proiezione di qualcosa che arriva da fuori e quindi fuori c'è una realtà che è quella vera e tu ti accorgi che puoi liberarti puoi uscire dalla caverna e poi non entri più fuori poi è un po' più complicato eh però non si può più far finta di non essersene accorti ecco per cui ricordiamoci che appunto se una persona non sa di essere un'anima difficilmente può comprendere anzi è impossibile che comprenda questo aspetto attenzione ho detto essere un'anima non avere un'anima perché per esempio persone molto religiose sanno l'esistenza dell'anima ma continuano a pensare che ci sia un'autorità esterna a cui rimettersi no per cui comunque delegano il potere a qualcosa che è fuori di loro a questo proposito mi viene in mente quella frase di Bert Hellinger l'ideatore delle costellazioni familiari che dice che l'unica autorità a cui dobbiamo ubbidire è quella interiore è quella dell'anima ma è logico che se tu non lo sai che sei un'anima e allora hai bisogno che qualcosa da fuori ti dica chi sei cosa devi fare cosa è giusto fare e che quell'autorità sia un dio che sta lassù da qualche parte che decide arbitrariamente chi deve stare bene chi deve stare male o che sia un'autorità giudiziaria istituzionale poco importa per te perché tu neanche te lo immagini che hai un'autorità interiore vi ricordo anche che a fine mese abbiamo un altro plenilunio in acquario perché tutti gli anni ci sono 13 lunazioni 13 lune e ogni anno c'è un segno che viene interessato quindi da due lunazioni in questo caso è l'acquario abbiamo quindi il 22 agosto un'altra luna piena all'ultimo grado del segno quindi sembra proprio che questo periodo sia un momento in cui qualcosa arriva a compimento qualcosa diventa sempre più chiaro sempre più evidente tra l'altro adesso il 29 di luglio Giove rientra in acquario per effetto del moto retrogrado dove resterà fino il 29 dicembre quindi ci sarà da rimettere a posto un po' di cose da rivedere un po' di cose da prepararci al grande cambiamento che ci sarà poi l'anno prossimo quando Giove rientrerà nei pesci attenzione però che comunque ci aspetta un autunno ancora come dicevo prima piuttosto caldo Giove tornerà diretto poi a 22 gradi dell'acquario il 18 di ottobre in quei giorni anche Saturno riprende il moto diretto la luna piena del 20 ottobre sarà una luna molto molto forte con sole e luna quadrati a Plutone la luna tra l'altro sarà anche quadrata a Saturno insomma un momento decisamente critico ma potrebbe anche trattarsi di un momento in cui appunto molte verità vengono alla luce ecco tutta questa enfasi del sedio dell'acquario anche a che fare non è difficile da immaginare con le censure e i controlli che vengono fatti attraverso la rete attraverso internet attraverso i social come dicevo anche nel video relativo a Lilith in gemelli molte informazioni vengono censurate molte notizie anche verificabili su alcuni siti ufficiali non vengono riportate vengono anzi diffuse notizie che non sono vere quindi è molto difficile distinguere tra ciò che è vero e ciò che non lo è anche qui come dico sempre bisogna imparare a sentire a volte non è importante avere la competenza a livello mentale è importante saper sentire ma siamo sempre nell'ambito dell'energia nell'ambito dell'anima quindi non è per tutti ecco l'acquario è soprattutto e qui arrivo un po' al punto cruciale di queste lunazioni sull'asse leone acquario il segno della comunità della collettività dell'umanità intera quindi luna piena in acquario sole e leone qual è il messaggio più importante il leone nella sua caratteristica diciamo ombra vuole sempre un ruolo importante riconosciuto vuole il palcoscenico vuole essere il protagonista vuole la corona sul capo il re il leone no e usare la parola corona in questo periodo evoca molte immagini ecco il leone ha una grande creatività un grande cuore il leone connesso al bambino interiore ma quella creatività non la deve utilizzare per andare sul palcoscenico a prendere gli applausi che colmano il vuoto interiore che deriva dal fatto che mamma e papà non gli hanno mai detto quanto era bravo eh quindi ehm attenzione attenzione il palcoscenico bisogna dimenticarselo in questa chiave eh il leone deve uscire da questa necessità di riscuotere successo di avere un ruolo riconosciuto deve mettere la sua volontà perché il leone è anche dotato di una grande volontà di determinazione ma questa volontà creativa e le sue qualità non per autoglorificazione non devono essere usate per autoglorificazione ma solo a beneficio della collettività quindi il leone che vuole lasciare un'impronta che vuole essere unico e speciale siamo tutti unici e speciali ognuno di noi può lasciare un'impronta ma deve essere un'impronta che abbia una rilevanza per il gruppo questo è il significato dell'attivazione dell'asse leone acquario il coraggio l'azione che arriva dal cuore la determinazione la volontà la creatività ma al servizio della comunità e tra l'altro l'acquario rappresenta anche scienza e tecnologia come veicoli dell'espressione dell'amore e della saggezza questa è anche la versione diciamo dell'asse leone acquario più evoluta secondo Alice Bailey astrologia dell'anima e la scienza non a caso in questo momento è sotto i riflettori dovrà cambiare anche questo l'uso che l'uomo fa della scienza questo ve lo dico da persona che ha un curriculum scientifico alle spalle 25 anni di lavoro a fare ricerca scientifica in ambito ospedaliero e purtroppo ho visto spessissimo la scienza strumentalizzata moltissime persone sono attaccate al ruolo al potere ai soldi si vantano di questi titoli il professore il primario è una cosa che mi ha sempre mi ha sempre colpito in maniera decisamente negativa quindi non è questione di fidarsi della scienza il problema è che la scienza la fanno gli uomini e quindi attenzione che la scienza non diventi una forma di fede perché tu ti senti impotente e quindi sei costretto a credere che qualcuno abbia in mano la soluzione per te ma non è così non è così e quindi ecco anche la scienza sta attraversando la sua fase critica per arrivare a un mondo in cui gli uomini faranno uso della scienza in modo etico veramente a servizio della collettività e non per vantarsi dei lavori scientifici pubblicati delle ricerche fatte e riempirsi di titoli accademici questa mania dei titoli no? ne ho già parlato un'altra volta ma adesso che stiamo parlando proprio dell'asse leone acquario è quanto mai attuale proprio nei giorni scorsi ho sentito alcune persone che conosco che sono state riempite di complimenti per aver avuto titoli onorifici tipo sapete socio onorario di un club prestigioso piuttosto che commendatore cavaliere della repubblica queste cose qui che sinceramente ecco all'anima non importa proprio niente di avere questi titoli in opera molte persone si sentono realizzate quando hanno questi riconoscimenti poi dobbiamo andare a vedere questi riconoscimenti perché arrivano sulla base di cosa cosa fai tu veramente di utile per la collettività e se tu con il cuore fai qualcosa di utile per la collettività ma che ti importa del riconoscimento pubblico di quel tipo di onorificenza oltretutto rifletchiamo su queste cose riflettiamo è un po' anche la stessa cosa sempre parlando di palcoscenico come surrogato dell'amore dei genitori che è mancato da piccoli per lo meno come percezione quelli che fanno beneficenza e continuano a pubblicare su facebook fanno beneficenza che cos'è quello è ancora la richiesta del bambino dell'amore di papà e mamma ecco questo può essere anche un momento per fare pace con papà e mamma fare pace con la propria storia personale riscriverla riscriverla alla propria storia personale diventando genitore di se stessi come ho ripetuto tante tante volte perché alla fine la destinazione è quella lì a proposito di relazioni e di affettività venere appena è entrata in vergine e venere ha un ruolo importante per tutto l'anno proprio per quella quadratura Saturn-Urano perché vi ricordo che venere è nata proprio dalle virazioni di Urano d'opera di Saturno quindi è un archetipo molto importante già con la congiunzione che c'è stata il 13 luglio se non ricordo male con Marte il Signore del Leone è iniziato un nuovo ciclo in cui gli amanti divini hanno come dire consegnato un messaggio relativo al cambiamento nel modo in cui si vivono le relazioni in vergine venere cambia ancora energia e ci parla di un'attenzione più concreta di una dimostrazione di amore di affetto in maniera più tangibile dove le persone sanno prendersi cura dell'altro proprio stando attenti ai dettagli la Vergine ha anche a che fare con il discernimento quindi attenzione nelle relazioni di qualunque tipo chiedersi ma questa relazione ancora un senso per me va bene così com'è questa relazione mi fa stare bene cosa mi porta mi nutre oppure io mi devo reprimere mi devo trattenere attenzione perché con Lilith in gemelli è difficile non dire quello che si pensa io per esempio mi riprometto di non toccare certi argomenti con alcune persone a cui voglio bene che però purtroppo hanno una visione diversa dalla mia ecco cerchiamo se lo dico a me stessa e a tutti quanti noi cerchiamo di non toccare alcuni argomenti con le persone a cui vogliamo bene perché altrimenti entriamo nel conflitto e nella separazione alimentiamo ancora quell'energia però ci sono molte relazioni che vanno riviste in questo momento molte relazioni che vanno lasciate andare perché se tu devi continuamente frenarti nel tuo percorso di crescita perché la persona che hai a fianco che sia un partner un amico un genitore ti frena ti costringe a stare lì perché non si vuole muovere e allora tu non stai compiendo il tuo percorso per cui in questo momento noi abbiamo la possibilità di rivedere un po' le nostre relazioni ma anche come cambiarle come cambiare i comportamenti le strategie la visione questa venere in vergine ci dice prenditi cura di te e prendersi cura di se stessi significa anche questo scegliere le persone da tenere attorno no? tra l'altro contemporaneamente abbiamo mercurio che fa un aspetto di trigono con Nettuno che ha 23 gradi dei pesci e quindi c'è creatività c'è immaginazione quel mercurio in cancro come dicevo prima è un mercurio emotivo ricordiamoci che poi nel 2022 giove Nettuno si congiungeranno nel segno dei pesci e quindi non so prendiamo questo questo momento che sarà ad aprile come un po' una destinazione come un po' un punto di svolta in tutte queste fasi con una congiunzione giove Nettuno noi possiamo pensare di portare sul piano materiale i nostri sogni quello che immaginiamo tra l'altro ho fatto una ricerca e ho scoperto che nel 1856 giove Nettuno si sono congiunti nel segno dei pesci e tra l'altro c'era anche urano in toro quell'anno e in quel momento proprio si è risolta la terza ondata di epidemia di colera che è stata tra l'altro la peggiore in Italia ma anche in Europa non solo in Italia anche in Europa poi ovviamente non è stato completamente debellato il colera però è rimasto solo in alcuni paesi e comunque sempre sempre meno forte insomma l'effetto dell'epidemia quindi chi lo sa chi lo sa che cosa potrebbe accadere però però a questo proposito era solo una curiosità perché sapete bene lo ripeto sempre che non c'è un rapporto di causa-effetto tra gli aspetti e transiti dei pianeti e gli eventi perciò non dobbiamo mai dare la colpa ai transiti quando ci accade qualcosa ci accade perché noi abbiamo bisogno di quell'evento dobbiamo capire qualcosa dobbiamo cambiare qualcosa se quel transito corrisponde a un evento per te nefasso fastidioso doloroso che ti fa arrabbiare sappi che non è colpa del transito quel transito non si sarebbe manifestato in quel modo se tu avessi colto precedentemente un messaggio che in un precedente transito magari ti avrebbe voluto consegnare ma tu appunto non hai colto quindi non diamo mai la colpa ai transiti il transito si manifesta lo ripeto ogni volta che posso sul piano materiale in funzione di quanto tu vibri del tuo livello di coscienza quindi ricordiamoci di vibrare alla frequenza più alta possibile cerchiamo di stare più possibile in mezzo alla natura cerchiamo di stare nel respiro di fare rituali venere in vergine ci aiuta in questo di recitare mantra di stare con i bambini con gli animali domestici di focalizzare l'attenzione su quei bellissimi dettagli che la natura ci regala che sia un fiore che sia un prato l'acqua che scorre nel fiume il mare la luna e cerchiamo di stare con le persone con le quali stiamo bene che non significa ripeto stare solo con le persone che la pensano come noi perché possiamo benissimo voler bene a qualcuno che non la pensa come noi e decidere semplicemente di non affrontare certi argomenti altrimenti finiamo per alimentare l'energia della separazione e questo non aiuta il passaggio al nuovo mondo e invece tutti noi abbiamo voglia che arrivi questo nuovo mondo quindi molte persone come dicevo non ne sono consapevoli chi è consapevole faccia del suo meglio proprio per alzare la frequenza e sincronizziamoci con chariclo questo ponte tra il personale e il transpersonale che ci può accompagnare là dove le frequenze sono più alte dove le energie sono più sottili ascoltiamoci vi mando un abbraccio vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato vi ringrazio se vi siete iscritti al canale se non l'avete ancora fatto vi chiedo di farlo vi ringrazio se condividete i video per qualsiasi domanda o per richiesta di consulenza potete scrivermi al mio indirizzo mail roberta.turci chioccelegmail.com un abbraccio fortissimo e buon plenilunio a presto e buon plenilunio